Ciao ragazzi, il mio nome è Toronghito99 In questo gioco Super Mario 3D Land, dopo che in precedenza vi ho spiegato e vi ho fatto vedere il secondo mondo Ora vi spiegherò il terzo mondo del gioco, capito? Allora, come ben sapete, il terzo mondo di Super Mario 3D Land è un mondo azzurrino Dove sullo sfondo vediamo un sacco di nuvole che viaggiano E vediamo un sacco di colline, capito ragazzi? Ora ci sono sempre i feri che ballano, è molta erba, vediamo Ora vi faccio vedere i modi presenti in questo terzo mondo Qui sono 5 livelli, capito? Vi faccio vedere i livelli I livelli di questo gioco del terzo mondo sono Il primo livello, basato sul deserto Il secondo livello, basato sulla spiaggia Questa è la casa di Toad, dove potete vedere i messaggi da Bowser, capito? Il terzo livello, che è atletico Il quarto livello, che è il regno dei funghi e nevato Il quinto livello, sempre atletico, sui dolci E l'ultimo livello è sempre sulla flotta fruttante di Bowser Dove è affruttante per la seconda volta, boom boom Capito? Ok Ah sì, una cosa Per sbloccare questo livello Questa sulle coccinelle, il mondo 3-5 Dovete avere 15 modaglie stelle Capito ragazzi? Sono 5 livelli, se vedete Ok ragazzi, per adesso vi saluto Speriamo che vi sia piaciuto Speriamo che vi sia piaciuto i livelli E il terzo mondo Se vi è piaciuto tutti i tre mondi E vedrete tutti i miei video Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanella Battete mi piace Non mi piace Commentate Vi aspetto nella prossima video recensione Che vi spiegherò Il quarto mondo Di Sopramatryland Capito? Bene, ok ragazzi Vi saluto Antenoghittur99 Vi saluto Ciao ragazzi